ciao ragazzi continuiamo col filone philips linea UE siamo sempre qui a casa del nostro iscritto che vuole rimanere in incognito e parliamo oggi di questa bellissima lampada poi vi faremo vedere anche questa 16 milioni di colori è dimerabile e 120 lumine è una lampada d'ambiente vedremo insieme le caratteristiche ma prima di questo vi ricordiamo di iscrivervi al canale di attivare la campanellina e di iscrivervi al canale instagram tuttotech vi mettiamo il link sempre in descrizione ma prima di iniziare a far tutto ciò ci guardiamo la nostra sigla all'interno della confezione trovate la lampada l'alimentatore e quella la confezione adesso passiamo all'installazione ma prima di tutto colleghiamo la presa di corrente alla rete elettrica e configuriamo poi sull'app la lampada non appena collegate l'alimentazione la lampada si accende ora che facciamo vedere i passaggi sulla app della philips UE e poi il passaggio a Alexa entriamo innanzitutto nell'app philips UE clicchiamo i tre pallini in alto a destra modifica la stanza o sposta le luci e selezioniamo UE Bloom ci fa un lampeggio di conferma e clicchiamo la spunta in alto a destra perfetto da qui già la possiamo comandare la spegniamo e l'accendiamo la dimmeriamo perfetto ora passiamo sull'app Alexa entriamo noi la vogliamo sempre aggiungere prima nel gruppo già presente facciamo modifica siccome l'ha già riconosciuta prima semplicemente selezioniamo UE Bloom 1 e facciamo salva ora che all'interno del gruppo dove l'avevamo voluta impostare andiamo a cambiare il nome UE Bloom impostazioni in alto a destra modifica nome e la chiamiamo sfondo diamo conferma e torniamo indietro anche qui da Alexa già la possiamo comandare accendere spegnere e creare routine ora vediamo il funzionamento vocale Alexa spegni sfondo Alexa accendi sfondo Alexa imposta sfondo al 100% Alexa imposta sfondo al 20% Alexa imposta sfondo verde con questa luce un po' soffusa grazie ai dispositivi che abbiamo appena collegato si conclude qui il video e vi ricordiamo di controllare qui sotto nei link perché ci sono i prodotti che abbiamo selezionato testato per voi e chiudiamo ringraziando Alexa Alexa grazie sicurati è bello parlare con te e anche a noi con voi e con loro basta ciao ragazzi alla prossima ciao 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 ciao